Metteste così, ripetitile! È sempre la stessa minestra! Io sto giocando, tengo io che sono... Che domani! Si, si, si prendi le mani, prendi le mani! No, non stai bene! Caccio, la donna è più di un mano! Ma chi io? E' scatto, si! E' come trovo! Non mi rispondo delle mani! Oddio, non è sempre la portata delle mani! Non mi rispondo delle mani! Ma si provi una malale! Non c'è, sua! Quella fa un'altra, moccaricchia, moccaricchia, ma non lo dè! E' meglio, non la fuggirà! Ma tu vai dicendo, chi sa la gente che cosa vede! Ma ce la cacciai? E qui ci metti! Io cambio il santofo! E io dovevo trovato! E io dovevo trovato, prendi un caccio sbattuto con lo tavolo e ci accorto lo tavolo! E' come la gente dice niente! Certo! E poi scostumatizza! Il suo donno non lo prevede, ma è più forte che lo sto usando! No, no, no! No, ma se non tomi le cuffie, vado in giusto! Ma tu hai chiesto un po' là! Ma ecco! Non aggiunga, mi stai parlando! Lo cellulare! Eeeh! Lo cellulare! Ma tu stai parlando! Che abbraccionista! Ma tu lo devi sempre sulla polonnetta! Comunque, ho avuto un'idea! Visto che non c'ho fantasi, ma tu faccio le tue fantasi per me! Ma! Io muovo il cellulare e faccio vedere che sto chiamando una bella sciatta! Mamma mia! Oh! Si è fatto! Ho una sciatta rossa! E' una sciatta rete! Ehi! Ehi! Che fai! Vado con una mano, fai presto! Ma che stai fatto? Niente! Oh! Stai un'idea! Bella! Tu sai? Io sono un'attrice a quattro stelle, e sto cercando un picciotto avese! Non avevo tutto! Quattro portogolli! C'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è? Allora, faccio un telefono! Come? Tutu! Tutu! Accominciamo pure! Fai il numero! Discipleoso! Ehi! Ehi! Non darei la cosa! Ce lo potrei fare? Ehi! Sì! Pronto! Un bel con tu paradois! Ehi! Ma piang! C'è un po' che è marcianese! No! E' bruxante! E' bruxante? Sei inglesa! Con un piccante! Ah, parada! E' stai capito! Come ti chiami? Me chiam... Pussumielo! 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 T'hai un po' il nome d'altro! Non, non! Non c'è un po' il nome d'altro! Pussumielo! Pussumielo! Cagnamo da niente! Non c'è un nome d'altro! E come ne hai chiamato? Evita Rocco! Dai! Chiamati Rocco che faccio la tua si fredda! Ti piacis? E invece ti chiamo Enzo! No! Enzo non ci sta! Ci sto consultando io! C'è Jessica! Sì! Senti Jessica! Senti Jessica! Ehm! Diti come mi puoi! Ehm! 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 Ma io sono il servizio! Ehm! 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 Devi descrivermi tu! Ehm! 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 Adesso? 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 Eh bravo, spogliati! Come sai fare tu? Ma che stia canzone? Ma vuoi fermi? Vuoi fare una cosa serica? Allora mi sto togliendo... Ti stai togliendo... Ti stai togliendo... Aschka! Ma no, vai allo a correre! Vaici un dopo, vaici un dopo! E allora mi sto togliendo... Ti stai togliendo... No, 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 mi sto togliendo... La parola! Ma che è la parola? Ma no, no, no! Più giù, più giù! Non mi faccio il giorno, sani scendi, sani scendi, sani scendi! Ti faccio qualcosa di essenziale! Allora, ora mi faccio il recipento... Bruna, faccio il recipento? Poi vado... Ti stai a ridere? No, non mi metti scendi! Non mi faccio la faccia! Senti, facciamo così... Si, si... Ma ti aiuti proprio di facci delle domande! A me le domande, le domande! Ma tu sei... Eterosex o homosex? Crec! Volevo sapere... Sì! Ma che sono tutti facci delle ex? Ho capito! Tu sei... Ermaflex! Ma non Ermaflex, no! Ah! Ho avuto un po' di mano! Grazie! 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 Grazie!